Buongiorno a tutti e vi ringrazio per essere venuti, perché questo è un servizio che voi date alla città per fare chiarezza su quella che è la questione tassa rifiuti, la Tari. Io qui ho la mia bolletta che mi è stata recapitata ieri e che provvederò a saldare nel più breve tempo possibile. Questo è un incontro voluto a fare chiarezza sulla questione tassa rifiuti. Come si calcola il costo totale della Tari da si dividere tra tutti i cittadini i fruitori? Come si calcola? Ho sentito dire delle assurdità. La tassa rifiuti la decidono i consiglieri comunali. Io faccio il consigliere comunale da molti anni, ho approvato tanti piani economici e finanziari, tante volte poi si è proceduto alla collettazione a seguito dell'approvazione del consiglio comunale, ma vi posso garantire che è veramente una presa che è una legge molto complessa, molto lunga, fatta di un unico articolo di tantissimi comuni. Al 654 introduce il concetto della copertura totale del servizio a carico dei contribuenti. quando qualcuno dice che non è possibile prevedere delle riduzioni, anche se il comune dovesse avere il pozzo di petrolio, con i miei dividiti è una grossa inesattezza. Quindi il mio invito è sempre quello di approfondire, di non dire le cose tanto perché comunque fanno piacere o è giusto dirle in quel momento. L'eccezione è prevista in quella legge, vi do riferimento così la potete guardare, a comma 660 della stessa nota, dove si dice che attribuendo alla fiscalità generale quei posti si possono prevedere delle agevolazioni, delle riduzioni, cosa che qualche comune ha anche fatto. Se qualcuno mi chiede perché il comune di Lucera sindaco non l'ha fatto, a differenza di altri comuni che hanno aumentato l'addizionale IRPEF, se volete vi do agli riferimenti sia di delibere di consiglio e sia normativi, perché non ha passato? Semplicemente perché non lo poteva fare avendo la fiscalità già al massimo. Quindi non poteva prevedere coperture di fiscalità generale per questo posto. Noi abbiamo la tariffazione al massimo dall'ex legge da quando abbiamo dichiarato il dissesto finanziario. Dissesto finanziario che comunque pone nei lingoni, nei lacci, nei laccioli, non ci permette di abbassare le tasse, non ci permette di intervenire in questi casi. Ma torniamo al PEF sbandierato. Dici il PEF? Chi lo decide il PEF? Il costo più grande, quindi il piano finanziario relativo al servizio di raccolta rifiuti e smaltimento, lo decide innanzitutto il contratto stipulato con la ditta a seguito della nuova gara. Il servizio parte a gennaio del 2020, viene esteso a tutte le campagne nel marzo 2020. Quindi diciamo che dall'anno 2020 noi abbiamo un nuovo servizio che viene pagato, quindi un prezzo diverso, che viene corrisposto alla ditta di raccolta rifiuti a seguito della nuova gara. Per onestà intellettuale vi dico che sono due servizi diversi. Per esempio, prima si utilizzavano mezzi o soletti, che perché erano leone per strada, che erano leone per zero. Oggi si utilizzano per quella che è il rispetto dei criteri minimi imposti dalla legge, CAM, criteri minimi ambientali se lo vediamo, si rispetta una serie di normative e abbiamo mezzi nuovi, servizio diverso, eccetera, eccetera. Non c'è stata la riduzione del costo che si paventava, perché anni addietro si aspettava questa gara, quasi fosse la salvezza di tutti, che avrebbe potuto ridurre, dimezzare il costo della raccolta rifiuti. Così non è stato. Prima della gara il costo era di 4 milioni 302 mila euro. A seguito della gara il costo è lievitato a 4 milioni 367. Poi, se volete, sempre carta alla mano, perché ci sono i documenti, noi possiamo vedere in maniera puntuale quella gara, a differenza del passato, che cosa prevede, dove si fanno gli spazzamenti. Per esempio, quando i cittadini si lamentano, perché noi questo è lo abbiamo delle città, il cittadino si lamentano, dice la città è sporca. Io faccio un affronto con altre città, ma lo tengo per me, io dico che va efficientato il servizio, va migliorato, la città dovrebbe essere pulita, ma vi dico che tutto quello che la ditta fa o non fa è previsto contratualmente. Prima si prevedeva uno spazzamento generale su tutta la città tutti i giorni, con la nuova gara non è così. Lo spazzamento viene diviso da spazzamento meccanico e spazzamento manuale, viene progressivamente, si riduce progressivamente da 7 giorni nel centro fino a meno giorni nella periferia. È giusto, è sbagliato? Questa è la gara che ci siamo ritrovati, questo è il servizio che dobbiamo pretendere. Non ci sono differenze. Molte inesattezze ho sentito della serie. Quello che non pagano gli altri ce lo avete addebitato, caricato sulla bolletta da chi vada, non è assolutamente vero. Cioè, come quando su Facebook appare fettulusi, fettulusi, bolletta, falso. Non c'è un centesimo messo a carico dei contribuenti per chi non ha pagato. Come si calcola, per esempio, come si arriva a questo fandomatico costo generale, perché ne ho sentite di tutti i colori, di tutti i colori. Abituato a prendere le carte, gli altri ufficiali, che vi leggo, innanzitutto esistra. Questa è la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario. Relazione che poi è stata validata dall'Age, che è un'agenzia della regione Emilia, che decide chi vive e chi muore rispetto alla raccolta di rifiuti. Se qualcuno pensa, ve lo dico senza chi muore di smentita, che sia il consigliere comunale a decidere quanto pagare, consentitevi di dire che siamo all'interosibile. Questo può produrre, perché io ho visto, per questo oggi ci ho tenuto particolarmente a leggervi le carte a chiarire la situazione. Ho visto nella città ingenerarsi un sentimento di odio e una cattivezza nei confronti della politica, dei consiglieri che sono andati a votare, a prendersi la responsabilità di votare gli atti sull'Atari, che secondo me, oltre ad essere completamente ingiustificata, e poi leggiamo il perché ingiustificata, è veramente, veramente mi farà brividire, perché stuzzicare in generale, dire colpevole sono loro, prendetevela con loro, quasi, è una cosa che non fa odore alle istituzioni, a qualunque livello esse sia. Relazione di accompagnamento del piano economico finalizzato dell'Empia. Scrive, o meglio, ve la letta, rispetto al piano dell'anno precedente, vi sono degli scostamenti che riguardano essenzialmente una diversa computazione degli odi di smaltimento e o conferimento, in quale vi è una diversa organizzazione del conferimento del trattamento e della frazione secca compostabile. Vi è una variazione degli odi di conferimento in discarica, un incremento degli odi di conferimento delle altre frazioni non recuperabili, quali ingombranti materassi, vitali, tavoli, le sede, che rispetto alla gara precedente oggi non vengono più messi nell'indifferenziato, questo per il motivo nobile, per il motivo ambientale, non vengono più messi nell'indifferenziato, ma vengono portati ai migliori di recupero e hanno un costo. In più contribuisce a formare questo posto, vi leggo sempre, 51.500 euro per l'ufficio Aro, 13.733 euro per la Gem, sono tutti lanci e lanciuti che non vengono decisi o creati dal Comune. Le ha creati la norma a livello sovraordinato che ci ha detto per esempio che dovevano unirci per forza in Aro e noi l'Aro l'abbiamo trovato, che si doveva fare una gara unica a unico di racconto ottimale ed è stata fatta. Per quanto attivi i costi di servizi sono variati, sia per la nuova strutturazione all'interno del servizio, sia per l'ammortamento di venti, attenziatore, eccetera, eccetera. Scrivono ancora e poi vengono la raccoltata le percentuali, così chiariamo, soldini alla mano. Questo è sempre 2020, il nuovo contratto? Parte il servizio da 2020, sì. 2020 l'aggiunta era? Poi vi do, l'aggiunta che ha approvato era la precedente. Quindi tutto? Tutto così, certo. Premesso che la gara viene fatta anni prima, ma non è una colpa o meno, non è fatta niente. Ecco, parte da quel periodo però. Allora, si venga conto? Allora, si scrive nella relazione, questo è un punto importante che i cittadini dovrebbero leggere, ma io capisco che qui si alza la mattina e va a lavorare per vedere come mettere il piatto a tavola, dopo aver subito un aumento del 100% quasi del gasolio, un aumento del 100% del costo dell'energia, un aumento del 200% del costo del gas, beh non ce la fa più, non ce la fa più. È chiaro che le famiglie non ce la fanno più e si arrabbiano. Se poi però cerchiamo di incattivirle, di sfruttare la Tari, che poi vi dirò di quando è aumentata, come è stato calcolato, è chiaro che si creano dei fenomeni sociali, orgogliosi. E lo dico senza timore di smentita. Si tenga conto che il comune di Cera non può agire, questo dice la relazione, e poi è stata validata dall'Ager. Non può agire né sull'incremento della produzione di rifiuti da parte delle utenze, né sui corrispettivi da riconoscere nell'impianto di trattamento, i ciclo e il mal di me, in quanto stabiliti dalla struttura regionale. Questo sta scritto, nero su bianco. Ad un minore quantitativo di rifiuti differenziati conferiti, purtroppo, non vi è il corrispettivo decremento dei fondi necessari, ma bensì un decremento dovuto all'imbalzamento delle tariffe euro a tonnellata per il conferimento. Questo deve già partire dagli anni. Non sapete dove conferiamo noi? Conferiamo dove ci dice l'Ager. Il conferimento è un conferimento complesso, perché noi portiamo i nostri rifiuti al tenicero, i rifiuti che possono essere reutilizzati creando del combustibile da rifiutico, il secco viene portato alla marcedaglia a Manfredone. Ci sono tutta una serie di passaggi, nessuno dei quali deciso dal comune di Lucera, tutto dall'Ager. Però la colpa è il Consiglio comunale che votano le tariffe sui rifiuti. Ripeto, il PEF, che è quello che viene diviso sui cittadini, si vota per macroare dal costo contrattuale da riconoscere alla tecnico e dai posti di contenimento in disposto. Questi sono i due macro aggregati. Quindi questi sono gli impianti, rispondo al mino che mi ha chiesto. BWIND, SML, frazione organica, carte e cartoni, guglia recupero, vetro, guglia recupero, plastica, riplastica e steppiato, legno, la guglia recupero e segreto, domani, la guglia recupero, beni, durevoli. Sulle carte c'è scritto tutto. Nicola, Veronico, SML. Ha arrivato l'ingegnere in basso. Lui è il funzionario che si occupa della gestione, della raccolta dei rifiuti. No, più che sapere la vita, a me è interessato a sapere il posizionamento dei licei, o altri doni, a dove andranno. I licei, ma poi da dei licei, dove andranno i credoni. Stavo illustrando, ingegnere, che il conferimento in scarica dei rifiuti è un conferimento complesso, perché noi conferiamo a dei licei, poi da dei licei, per esempio, la parte secca combustibile vanno a Fredonia, altre parti vanno a Foggia, altre vanno ancora altrove. Per esempio, negli anni scorsi c'è stato addirittura imposto dalla regione Puglia, per tramite dell'agere e dell'arena, di conferire a tanto, ma tanto, ma tanto. Sapete chi paga il costo di conferimento a tanto, con i costi che ci sono oggi del carburante, eccetera, eccetera? Il comune, i cittadini, dicebbe che è uno di quelli, 4,5 euro, e chi ha proprio di un euro? Cioè, non è che a me faccia piacere andare a pagare, eh? Sia già! Vi leggo alcuni dati sensibili, che vi faranno capire, in soldoni, come si evolve la situazione. Anno 2018, il costo totale sostenuto per il conferimento è pari a 1.327.785,58, con una percentuale di raccolta differenziata pari a 43,74%. Potete prendere altri, o comunque potete prendere gli altri. Mi riferisco sempre a una relazione di accompagnamento al PEF. 2018. 2021, che l'hanno poi preso a riferimento per produrre il PEF 2022, perché è chiaro che è una stima che si fa dei costi rispetto all'anno ragione. 1.652.404,14 a fronte di 1.327. e qua si alza, diciamo, chi è più intelligente degli altri, però è diminuita la percentuale di raccolta differenziata e quindi pari di più. E no! E no! Perché nel 2021 la raccolta differenziata stava a 46,63, che è oltre 3 punti percentuali in più del 2018 e nonostante la percentuale in più del 2018, quindi quantitativo inferiore di parte indifferenziata convenita in vista, noi paghiamo 350.000 euro giù di l'euro, in più rispetto al 2018. A chi ne dobbiamo attribuire questi aumenti? A chi ne dico una? E no! E no! Perché questo significa voler attribuire la gente che vuole dire chiaramente che può aver subito il 100% dell'elettricità in silenzio, il 200% del gas in silenzio, eccetera, eccetera, eccetera. Non voglio parlare del paniere prodotti perché se noi ci mettiamo le mani nei capelli, la pasta da portare 80, poco su un euro, 80, quindi il 200% di più. Non voglio arrivare a quello, però la dobbiamo incattivire nei controlli dell'amministrazione comunale e dei consiglieri che lautamente pagati, cioè zero, si prendono la responsabilità di mettere la firma sotto questi atti. Nel frattempo però la colpa è di un sistema di raccolta rifiuti regionale che fa acqua da tutte le parti e che va attenzionato e rimodulato perché se si parla di servizio pubblico perché la raccolta rifiuti è un servizio pubblico chi si occupa o dovrebbe occuparsi di interessi di carattere regionale dovrebbe attivarsi affinché i costi di conferimento fiscali siano calmerati e quindi alla portata dei comuni che venga strutturato un servizio di conferimento più vicino ai cittadini, meno impegnativo perché poi vi devo leggere una cosa simpatica che ha prodotto l'Ager qualche giorno fa l'Ager cioè sempre agenzia regionale questa fa io potrei parlare fino a dopo domani però capisco che anni fa l'impianto di Manfredone proroga con gestione di gestione del servizio per la compensazione con quale assento di approvazione del tariffo di conferimento per l'anno 2017-2018 cioè l'Ager si è studiato 5 anni dopo è avuto per il 2017-2018 gli prolungo il contratto all'Ager di Manfredone e così paghiamo per il 2019 vi farò un aumento che pagherete voi questa è l'idea quindi l'anno prossimo io ti credo che ci sono preparate perché se qualcuno non mette freno a queste cose qua che a mio avviso sono impensabili noi ci ritroveremo nonostante la differenziata voi mi dite la città esporta gli abbandoni ci sono per colpa nostra dei cittadini principalmente dei cittadini di chi non fa la differenza poi o di chi abbandona poi per colpa dell'ente perché ci devono essere più controlli più saggiuti tutto quello che vogliamo però se la regola che c'è l'Oat-Wild vale il primo dell'anno deve valere anche l'ultimo dell'anno perché chi non ha niente da perdere non ha niente da perdere questo non vuole essere una giustificazione ma sia chiaro che bisogna intervenire a livelli leggermente più alti per mettere in condizioni comuni di recuperare anche da chi non ha nulla sulla lettura della bolletta gravissimi errori ci sono ave vengo anche autunque dicendo parlando sia degli sgravi previsti dal cosiddetto fondone che sono stati sventolati in un'ordine comunale non solo e sia della riduzione del PEF quando qualcuno dice si prendevano i 400.000 euro previsti dal fondone per le utenze domestiche si abbassava il PEF a questi 400 si sommavano i 230.000 euro rinvenienti dall'anno 2021 e si diminuiva il PEF quando la gente ne ascolta il PEF è il problema finanziario lo sapete che cos'è è lo scondino che si paga al ristorante quando uno mangia alla fine qui questo è il PEF e questo gli epilogo non c'è nulla di più falso non c'è nulla di più tendenzioso perché questi soldi vengono dati ai comuni per far fronte alle famiglie alle imprese che sono in difficoltà o sono stati messi in difficoltà dal covid voi immaginate che cosa che voglio dire Giuseppe non ha subito alcun decremento è un esempio chiaramente perché sono libero professore non ha subito alcun decremento legato al covid però noi riconosciamo una deputazione in bolletta del 10% utilizzando i fondi politici ma io sfido quale funzionario dirigente mette la firma sotto questa esenzione o comunque riduzione e poi comunque vi invito a riflettere che è una cosa completamente irragionevole i 400.000 euro sono stati comunque inseriti inseriti quali agevolazioni nel regolamento tale approvato con delibera numero 16 del 30 aprile di quest'anno l'esenzione o le riduzioni meglio più specifiche sono previste all'articolo 21.6 dove ci sono anche i requisiti e invito tutti i cittadini che hanno i requisiti previsti dall'articolo 21.6 al comma 2 cioè che hanno perso il lavoro durante il covid hanno avuto una forte riduzione del quale tutti quelli previsti nel regolamento e il 30 di giugno fanno la domanda se hanno i requisiti la bolletta diminuisce e a copertura di questa diminuzione verrà messo il fondo che lo Stato ha dato ai comuni il risultato è lo stesso la bolletta da 200 a 300 a 200 a 200 a 250 sono a chi ne ha diritto e si utilizzano i fondi dello Stato per quanto riguarda mi riferisco a chi in consiglio comunale 230.000 euro dovevate ridurre la bolletta noi li perderemo assolutamente non perderemo nulla i 230.000 euro residui rispetto all'anno scorso dopo l'apparazione del bilancio di quest'anno verranno riaperti i termini e mi riferisco alle società quindi alle utenze non domestiche mi riferisco alle imprese mi riferisco a quelle imprese e società che hanno subito una chiusura per colpa del Covid nell'annualità 2021 che non sono riusciti a fare la domanda entro il 30 madamevole a settembre 2021 ma potranno rifare chi non è riuscito possono godere di questa geolazione anche quest'anno sempre avendo quale riferimento di 2021 è invito a fare le domande perché senza domanda questi soldi non me li possono togliere dalla bolletta nessuno anche al rischio di doverli dimandare indietro quindi chi sostiene che si poteva ridurre la bolletta a tutti utilizzando gli scatti del Covid dice una cosa tipo inesatta 155 mila euro 155 mila 761 i i fuori serviti fuori perimetro e quello che viene fatto fuori perimetro viene inserito nella bolletta dei rifiuti premesso che è previsto dalla legge premesso che rappresenta il 2% della bolletta 155 mila euro quindi premesso che questo questi nuovi servizi sono stati previsti nella cara d'appalto del 2017 e poi è partita in quella e che quindi già ci siamo ritrovati in più vi dico che non è il primo anno perché mi confermerà l'ingegnere Barbaro che è qui a Cannone è stato fatto già nel 2020 quando io non ero sindaco quindi tira la gente non è mai stato fatto è una cosa che non risponde al vero e vi voglio far vedere le delibere di consiglio comunale che io mi sono pension e mi la vedi dove sta e cosa 30 gennaio sarei diventato sindaco dopo dieci mesi e si faceva un servizio fuori perì e sta nella collettazione tari che si intende fuori perimetri sfalcio dell'erba sui marciadini disinfestazione derantizzazione dei servizi che prima erano appaltati ad altra società erano appaltati lo puoi spiegare questi servizi che si intende più che diventano i servizi che si incide di l'ingegno urbano e quindi comunque oggi oggi sono stati in base a quello che è la legge regionale di 4 di ad oggi sono stati inseriti in questo servizio e che ovviamente sono consoli 155 mila euro quest'anno 2022 ma questi derivano già dove si sono stati già inseriti in 2020 perciò questa è la somma è la nuova carica il nuovo sistema l'MTR definito dalla l'arera prevede che tu questi servizi definiti fuori perimetro tu li debba specificamente indicare in bolletta mentre prima non c'era l'obbligo di indicarli adesso tu li devi indicare perciò è una somma che viene addebitata ogni anno praticamente sono servizi che vengono svolte ogni anno un altro grande errore scusa l'uso settimbre un altro grande errore che viene commesso in maniera inconsapevole dai cittadini che però fa la differenza ogni anno eravamo abituati a Lucera che arrivavano le pollettazioni imparziali i bollettini che si pagano a rate e poi a fine anno arrivano il conguaglio la bolletta che viene arrivata quest'anno è totale non ci sarà il conguaglio quindi chi la mette a paragone alla bolletta dell'anno scorso o del 2020 dove poi è arrivato il conguaglio è chiaro che pensi che la bolletta sia raddoppiata aumentata e chiedo scusa perché è un fatto che accade per molte chi deve avere un'agevolazione tipo il fatto dei componenti di quello familiare che sono fuori per lavoro che sulla quarta bolletta riusciva poi a scontare come farà? non ci sarà la quarta bolletta è stato tutto calcolato e come farà per poter rendere poi viene fatto il rivolso lo chiede all'ufficio facendo una denuncia oppure ci sarà per rascondato la bolletta dell'anno prossimo quindi cittadino per denuncia questo è fondamentale quando qualcuno però siccome la bolletta che è arrivata adesso contiene quattro rari prima delle quattro rari se loro portano la documentazione idonea viene ridotta direttamente modificata l'ultima rata ma come si fa? la modifica non può avvenire perché è già stata emessa no no ci sarà già benissimo tutti si lo possono fare benissimo prendo ad esempio prendo ad esempio una casa di 100 metri quadrati che è la casa tipo lucerina a Milano magari più piccola a Roma c'è più piccola a lucera 100 metri quadrati diciamo che è la casa media e vi faccio il confronto con quanto pagano gli altri comuni lucera si è evitato di me e il comune dove le condizioni si paga di più falso casa di 100 metri quadrati con tre occupati 374,28 Cerinola 430,22 Manfredonia 422,21 perdi sai che è vero per dire 475 si 475,28 su tre persone 100 metri quadrati 100,28 io ho avuto la polese 445 forse c'è una forse c'è il box stiamo parlando di 100 metri quadrati solo l'applicazione senza del box vabbè abbiamo fatto un esempio ma se metti il raffronto è uguale sia per uno che per l'altro scusate quindi non è che se si aggiunge il box o si aggiunge la pertinenza il giardino aumenta la lucera ma aumenta pur altro cambia vuole sansevero è un po' più bassa di lucera sansevero è più bassa di lucera un po' più bassa di lucera vi spiego perché questa riprova di quello che io vi ho detto perché quindi non è nemmeno vero che bisogna avere forza mettere tutte è che anche con le miniere di diamanti o con i pochi di petrolio non si può abbassare o non si potrebbe abbassare la colletta non è vero lo dice la legge e possiamo verificare nella delibera numero 30 del 27 settembre 2021 del commissione severo è questa qua ci siamo presi la vita di andare a guardare ci dà il riferimento normativo articolo 24 terra del regolamento di non ci interessa richiama il comma che dicevo prima di il 660 della legge 27123 dove dice fino ad un massimo del 7% potete intervenire con la fiscalità la fiscalità cittadina generale noi non lo possiamo fare perché siamo al massimo con le tariffe e siamo con le tariffe perché siamo con le tariffe non si può fare a Lucera se Lucera aveva i pozzini di petrolio lo poteva fare perché i tempi non ce l'avessero i pozzini di petrolio pagavano il dissesto e si abbassava la data nella misura massima del 7% come prevede la legge ripeto comma 660 legge 27 dicembre 2020 che cosa ha fatto un domune che se lo poteva permettere ha aumentato l'addizionale con una lirpe e ha abbassato il 7% le bollette dei cittadini non possiamo fare altro noi non faremo l'aumento del lirpe no è al massimo che vogliamo intervare scherzato poi vi dico vi leggo un attimino quelli che sono gli andamenti nostri lucerini della data è veramente concludo perché ci sarebbe da dire mille altre voce sottolineare mille altre inesattezze una cosa è c'è i consiglieri comunali che sono stati agitati è veramente con il rischio dei cittadini incattiviti da mille altre problematiche nei confronti delle quali bisognava veramente arrabbiarsi perché l'aumento per esempio della bolletta Enelo gas fa arricchire i privati il pagamento della raccolta di fiuti non fa del comune il pagamento della bolletta al comune è una fiscalità che serve per garantire i servizi non fa arricchire il comune assolutamente anche il comune ci rimette rispetto a chi la bolletta non la paga ci rimette il comune non i cittadini sulla bolletta un'altra abnormità che ho ascoltato 2000 non mi leggo tutti gli anni ne ho fatti tutti in differenza 2017 allora 2014 2,94 sempre 3 abitati 3 componenti 2,94 2,94 2015 2,99 2016 300 resta 300 o cambia qualche centesimo in più ma poca roba 17 18 2019 cresce di nuovo 306 euro e avevamo ancora la vecchia tara andiamo ancora la vecchia tara il vecchio servizio 2020 c'è il bubote nel 2020 c'è il bubote che nessuno ha detto ai cittadini io non volevo creare nervosismo nella città e dire prendetela con quello o con quell'altro ho creduto bene di fare gli alimento che è necessario e oggi è necessario 2020 306 euro nel 2020 cittadini e lucerini non hanno ricevuto una connettazione a conguardo dici perché perché il PEF ripeto io divento sindaco di Lucera fine ottobre o ottobre 2020 la delibera era quella che vi ho fatto vedere prima che mi ha fornito vabbè gennaio 2020 anche all'epoca sono stati i consiglieri con una cioè io io faccio il consiglio con una la donna è la mia l'ho deciso di aumentare 3006 euro senza conguaglio 3006 euro tre componenti tre componenti senza conguaglio questa però è la parte variabile giusto? non ho questo tutto ha tutto? senza ricevere il conguaglio a fine anno perché questo conguaglio non è arrivato? la ditta di raccolta rifiuti Vigelina fu colpita da un'indedittiva in quei giorni mandarono delle carte non lo so approssimative mandanti l'Ager sempre l'agenzia regionale non approvò il PEF forse le carte non erano diciamo completamente esaustive mancava mancava comunque non ci ha autorizzato a fare la bollettazione per la parte che mancava perché il costo nel 2000 sempre carta la mano non per sentito dire o tanto per il costo nel 2020 quello bollettato che è arrivato nelle famiglie era pari a 5 milioni e 500 mila euro se volete vi do il dato vi do il dato 5 milioni e 5 5 milioni e mezzo 5 milioni e mezzo mentre il costo 5 milioni e 5 14 801 il dato effettivamente speso dal comune di Ucera per la raccolta rifiuti nel 2000 e il contenimento in riscata nonostante tutto fu 6 milioni 0,30 i 500 mila chi? i 500 mila euro non è che si sono volatilizzati però quest'anno sempre l'Age ci ha detto sempre l'Age 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 regionale ci ha detto guardate che dovete recuperare i 500 mila euro che non avete bollettato nel 2020 e che quindi i cittadini non hanno pagato li avrebbero dovuti pagare nel 2020 e non li hanno pagati quindi è facile dire nel 2020 l'ipotizia non è aumentata nel 2020 l'ipotizia non è aumentata non li abbiamo fatto pagare l'ultima rata l'ultima rata che però devono pagare tra quest'anno e l'anno prossimo suddivisa ah quindi tra quest'anno e l'anno prossimo suddivisa come di specifico 389 mila euro quest'anno che è il 75% e il 25% l'anno prossimo lo sapete che cosa succedeva paradossalmente se l'Ager avesse autorizzato il PEF nel 2020 e quindi ci fosse stata la bollettazione corretta nel 2020 che nel 2020 pagavi 335 euro e quest'anno magari di meno e il COPE è facilissimo quindi siete stati fortunati sia tu che Tutolo perché Tutolo si è cambiato a regionale e non ha tutto la scure e tu che sei stato candidato quindi nessuno tutte e due ha scritto la scure è sacchino diciamo che diciamo che no vabbè le battute eh no è la battuta viene è la battuta va bene nel 2020 i cittadini di Lugela hanno pagato 5 milioni e 20 e dovevano pagare 6 milioni e 0,30 quest'anno il comune di Lugela nonostante tutto il PERF sarebbe sceso da 6 milioni e 2,96 e 130 a 5 milioni e 9,6 e 5,8 cioè meno meno di quanto si pagava nel 2020 però questa qua questa cosa non è una scelta io non ho pagato dai cittadini con guai nel 2020 ma non per colpa mia non per colpa dei consigli di comunale perché questa congiuntura strana che ha visto una ditta sottoposta di interdittiva non inviare le carte correttamente alla regione la regione non dare la possibilità di bollettare nonostante la richiesta ci fa trovare oggi nella condizione di dover pagare qualcosa in più chi dice però dopo ma lo sai che io non me la prendo perché perché la gente segue l'onda che gli viene suggerita c'è un'onda di cattiveria c'è un'onda di contrarietà perfetto prendetevela con qualcuno i cittadini hanno sentito un aumento come dicevi 100% dell'energia elettrica 200% di costo 50-70% di gasolio subiscono un aumento dovuto per la maggior parte a un debito pregresso che hanno nei confronti della fiscalità lo dovevano pagare nel 2020 lo stanno pagando adesso ma non perché l'hanno scelto del 12% in media fatta eccezione di sgravi perché poi chi subirà e avrà la possibilità di godere degli sgravi magari paga paga molto meno 30% in media del 12% quindi chi dice raddoppiato triplicato quadruplicato non è vero voglio dire che il cittadino è in buona fede perché legge la bolletta senza il conguardo poi legge questa che completa e l'aumento più manca una bolletta l'anno scorso per esempio è chiaro che vede e pensa di pagare il doppio ma assolutamente non è così ho sentito cose fantomatiche in questo delitto è raddoppiato è triplica a Milano questo è bene a Milano con una casa tre volte più grande della mia questo è quello che diciamo si sostiene tre volte più grande quindi 50 metri 150 mila per me pagano la metà di un cena siamo praticamente alla alla collega chiedo scusa questa è una domanda tecnica ma l'Ager poteva avere poteva arrogarsi il diritto di non convalidare il paese non fa c'è un ricorso pendente noi abbiamo fatto anche cazzo c'è un ricorso pendente in grado senza il presidente della regola quindi un ricorso gerale sì sì perché ci ha messo nelle condizioni e noi l'avremmo già individuato senza fare lo pagano avevamo già individuato nel 2021 dici tu ci metti in difficoltà perché voi i cittadini li devono pagare tutti insieme queste cose qua faccio di collage tecnicamente può farlo? con il nuovo sistema sì ma voglio capire tecnicamente con il nuovo sistema in ETR i dati vengono validati dal Lager e approvati dall'area quindi questo nuovo sistema che stravolge il classico meccanismo di dire ok io spendo 100 divido alla buona e media si va avanti no adesso no adesso si fanno proprio dei piani finanziari basati sui piani industriali prendendo i dati dal bilancio non solo dell'Eto Comunale ma anche delle aziende per cui tutto deve essere certificato ecco perché i dati che noi produciamo noi e i gestori produciamo vengono validati dall'Ager che è l'organismo che è l'ente territorialmente competente così come prevista dalle delibere dell'area e approvate dell'area l'area approva su tutti i peffi tutti i comuni di dati poi è stato all'unità quindi c'è stato uno stravolgimento quindi anche proprio nella calculazione nei dati che vanno inseriti in questi software che loro ci donano per cui ovviamente nel donna c'è stato per la prima volta questo nuovo e per cui tutti sono andati in sofferenza tutti sono andati e proprio quest'anno il programma luce di foggi con lui c'è uno dei pochi che ad aprile aveva fatto un pezzo che aveva validato dall'Ager per cui tutti i comuni si stanno organizzando con le software house perché è veramente complicato adesso determinare il posto non è facile non si fa più con dei dati beh vabbè questo poi lo mettiamo dopo no tra l'altro c'è un nuovo meccanismo in cui ecco perché si è potuto fare nel 2022 e tu nel due anni successivi tu lo fai sui dati di previsione di due anni precedenti e vai a conguaglio dopo due anni quindi noi nel 2024 potremmo inserire eventuali conguagli che dovessero essere necessari a fare le comune qui da favore di vita no ma sia in più che in meno se noi con cui c'era previsto un posto X e che poi alla fine quest'anno si migliori 200 compreso quello che stava parlando può essere in più rispetto a quelle che è la reale spesa ma tu la reale spesa la fai che cosa può succedere tecnicamente domani mattina si sveglia l'agge e dice al comune di Lucena non conferire più al delicello conferisciamo a Luglia noi paghiamo un milione di euro in più tra trasporti e conferimenti quel milione di euro in più non era previsto in bilancio non era previsto nei 6 milioni 200 e nel 2024 tu dovrai fare un compagno perché la legge dice di soldi comunque far pagare tutto il costo del servizio farlo ricadere sui cittadini o interamente sui cittadini o sempre interamente sui cittadini coprendolo con la fiscalità generale per un massimo del 7% questo dice la legge tutti i resti sono parmoncini le volano possono piacere perché sono colorati ma non creano utilità allora possiamo interrompere se no si fa un po' da fuori domenica una cosa che devo dire è comunque quando qualcuno sostiene che gli amministratori sono disattenti gli amministratori non si impegnano gli amministratori dici se non leggeri se non ti impegnati che state a fare questo è un sentimento che si può ingenerare nella città sempre in silenzio senza fare propaganda il 9 settembre del 2021 ormai è passato quasi un anno io scrivevo agli uffici comunali dicendo guardate in una mia attività così di ricognizione mi sono reso conto che la legge 24 del 2012 regione pubblica all'articolo 8,5 prevede che noi dobbiamo introitare i proventi quindi facci dare un po' di soldini che sono previsti nel pecc di quest'anno di comando non so 80 mila euro circa allora questa letterina che io ho mandato guardate che noi dobbiamo recuperarli quei soldini che sono per la vendita del rimballaggio perché la legge dice è una legge imperativa dal contenuto imperativo dice quanto serve e io lo scrivevo il 9 settembre 2020 qui non stiamo così tanto disattenti prevede che i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione dei rifiuti da imballaggio che rimane a raccolta differenziata sono erogati esclusivamente agli enti locali facenti parte dell'Aro cui è fatto divieto e questo diciamo il contenuto imperativo della norma di delegare tali funzioni al gestore di servizio racconto questo nel 2012 dire c'è un contratto e non possiamo fare niente significa non non conoscere l'altro diciamo così evito i riferimenti sempre perché sono abituato a darmi a guardare le cose da una lettura incombinata e disposta della legge 24 del 2012 ormai ha fatto 10 anni la legge e l'articolo 1339 e 1375 del codice civile in materia di applicazione dei contratti questa è una norma che queste due norme intervenono nella gestione dei rapporti contrattuali in forza di queste due norme il contratto doveva essere ridiscusso e o rinegoziato per questo io mi sono preso l'antica di scrivere per fare il vero di giorni o comunque adeguato automaticamente alla nuova normativa o di questo non dovesse accadere il contratto seppur in maniera parziale è nullo per violazione di norma inerativa una norma di legge che dice in maniera inerativa guardate questa cosa non si può fare obbligare la pubblica amministrazione a rivedere il contratto quindi io una cosa che ho scritto nel settembre 2021 forse il consigliere del manco quello che è stato lo scritto a dire guardate guardate questa cosa qua anche se avesse sbagliato perché magari non c'era nulla diciamo di non corretto bene ha fatto il consigliere a dire guardate come ho fatto nel settembre 2021 ho letto questa norma ve la volete riguardare una cosa è certa che dal 2021 il comune di Lucina era di improita 80.000 euro che se non fossero stati improitati li dovevano magari contribuire perché quel perf era più 80.000 euro e li dovevano pagare i cittadini cittadini che hanno avuto uno sconto grazie diciamo a un atteguamento contrattuale non grazie a me a un atteguamento contrattuale che però io mi ero in maniera molto così garbata e educata permesso di sottolineare un anno fa rispetto a una norma che però è andata in vigore nel 2012 e che nessuno più attento di me si è preso la briga di dire a me non me la volete guardare più attento di me poi poteva andare bene non bene poteva essere imperativa non imperativa poi ci saranno mille letture per il partimento i tribunali non esisterebbero però questa è una lettura a garanzia dell'ente che io ho fatto nel 2021 scrivendo questa letterina e vi do di tutto quello che vi ho detto anche rispetto alle coperture al totale vostro vi do i riferimenti sono questi la gazzetta ufficiale tutto nero sul piano poi li potete andare a verificare se volete scrivere i riferimenti vi dico che siamo tutti sotto lo stesso cielo che tutti possono anche avere una disattenzione perché io potevo anche non leggere quella norma e non scrivere niente non sono il miglior sindaco del mondo oggi perché l'ho scritto non sarei stato il peggiore non scrivendo chiedo solo di dare alla cittadinanza l'equilibrio e la serenità che metta perché dire è colpa dei consiglieri comunali generando una rabbia nei confronti delle istituzioni completamente giustificata è una cosa che non fa pena alla città è come se io stasera dicessi è tutta colpa tutta e completamente colpa della regione dei consiglieri piuttosto che dell'angelo noi siamo sotto il cielo dell'angelo sicuramente che dovrà per abbassare le bollette ripensare a un sistema di smaltimento e raccolta di fruti che secondo me fa acqua da tutte le parti ognuno non vuole le discariche noi per primo ma loro hanno il dovere di creare un sistema di raccolta che funzioni solo così si può abbassare la folletta se aspettiamo che la folletta la debbano abbassare il consiglieri con una guardata che siamo proprio all'ammacino bene possiamo fare una domanda tutte le domande che vorrei perfetto tutte le motivazioni degli aumenti ci stanno anche bene ci ha spiegato il sito ma almeno quello che volevo sapere le distanze diciamo del centro al territorio a modi da massacra che sono rimosse in cui si va a contendere che hanno dei posti per adesso adesso però molti sicuramente anche lei ha sicuramente proteste sulla questione evasione totale come mi siete mosse sull'evasione fisica totale io torno a dire una mia storiella che probabilmente qualcuno ha già sentito il comune di Lucera ha un registro un'anagra in cui ci sono delle famiglie voi avete contatto altrimenti se questi possono pagare un meno però legalmente lei anche lei è un avvocato quindi prima di procedere con un eventuale ignoramento di questo si fa un procedimento ma il giurato di Sanlino non ha niente da prendere non fa non ha niente da prendere ah come si sta il valio o come si è privato per recuperare o avvisare queste famiglie che sono totalmente evasciate allora la prima cosa che è stata fatta dal comune di Lucera che penso non abbia almeno dei visti precedenti appunto precedenti scusate il gioco di valore è stata rinforzare l'ufficio di vita con l'assunzione tra ufficio di vita di ufficio ragioneria di ben quattro istruttori di categoria C che hanno proprio il compito di incrociare le banche dati e mettere l'ufficio di tutti nella condizione di innanzitutto di avere il quadro chiaro di fare poi è passato sotto traccia il fatto che quest'anno c'è stato gli avvisi del certamento inviato a Lucera si chiamano gli avvisi del certamento dopo cinque anni per interrompere la prestazione sto dicendo qualcosa di non detto quest'anno si sono inviati gli avvisi di accettamento relativi al 2021 quindi non è che noi abbiamo accelerato abbiamo praticamente ridotto di cinque volte il tempo necessario questo è l'approccio che una pubblica amministrazione deve avere nei confronti o contribuenti dicendo perché a molti e a molti contribuenti si è in generale la consapevolezza dice vabbè non lo pago quest'anno la letterina mi arriva tra cinque anni oggi non è più così abbiamo ridotto di quattro anni e mezzo vabbè ma questa è per un'evazione parziale lei sa che io lei mi conosce quindi mi manda l'avviso no io parlo di un ufficio di tutti così come rinforzato ma anche prima che fosse diciamo fossero aggiunti nuovi impiedati è obbligato a scandagliare l'anagrafe lucerina e a metterla in relazione con l'anagrafica tributale e capire chi è evasore totale parziale di pari o non pari e oggi ha sicuramente in mezzo a disposizione più di e per farlo e questo sembra un'anagrafica con un'anagrafica 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 finanziario che è stato in grado di assumere nove categorie C un di Vigene e due a comando cosa che non è stata mai fatta nel comune di Vigene e che io purtroppo forse ho il cattivo di mettermi in comune a lavorare e di non fare propaganda non sono riuscito nemmeno a comunicare all'agene queste idee queste compagnie me ne assumo tutta la responsabilità di lavorare tanto e di comunicare poco lavorare tanto sapete che significa che io sto qua tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì molte volte santo dettore e chi sta qua lo so lo sa benissimo ma chi è pomeriggio posso rispondere per quanto riguarda l'agrafica c'è quanto riguarda allora gli evo assoluto d'acqua a lucega è difficile che ci si vengono assoluto d'acqua così come penso in altri comuni perché per poter pagare la tappa si paga nel momento in cui tu campi residenza e quando campi residenza c'è l'obbligo c'è l'obbligo per ottenere la residenza l'iscrizione alla tappa se manca qualcuno non è stato censito se non è stato censito quella famiglia che va ad abitare in un determinato appartamento lo paga in proprietà quindi evasori non ce ne sono totali totali sia evasori totali non evasori totali non pagatori perché ci sono quelli che non pagano ed è diverso evasori totali non censiti non censiti a quello che risulta come dice non censiti poi se ci sono quelli che abitano all'interno di appartamenti chi paga su quell'appartamento è il proprietario dell'appartamento quindi non penso che il proprietario dell'appartamento dà invinto il locale e gli paga anche l'infinito e le utenze non domestiche e per le utenze non domestiche le utenze non domestiche nel momento in cui aprono le attività è lo stesso discorso devono fare la comunicazione per la casa un'altra cosa che vi volevo dire è concludere invito nuovamente le aziende che dopo l'appartamento del bilan e tutte le famiglie che hanno per i miei vicini a fare la domanda ma per la riduzione della carne che in presenza dei requisiti verrà concessa come la legge prescrive e in più vi volevo dire a me termini per le società per le imprese verranno riaperti dopo la faccia no anche dopo la faccia quindi avranno termini fino al 30 settembre fino al 30 settembre potranno farlo e mi rivolgo ai professionisti perché uno che ha l'anno scorso è stato detto non è stata data diffusione si trattava di una riduzione rivolta alle aziende ogni azienda ha il commercialista ha il suo tecnico il tecnico doveva rire alle aziende vedi che tu devi fare la domanda per la riduzione della carne perché sei stato giusto fortunatamente la norma ci viene in conto quest'anno e ci dice che quei termini possono essere riaperti per me saranno riaperti più di al 30 settembre ma se non fanno la domanda e vengono il 2 ottobre non potranno godere assolutamente di quella riduzione è una cosa chiara di mantenere i soldi e la colpa è dei convertitori era solo i miei clienti l'hanno fatto un'altra cosa una mazzata non ce la siamo beccata come cittadinanza e quindi si è arrestata quella crescita di raccolta differenziata di percentualità differenziata ma non è una cosa è accaduta solo a Lucena con l'esplosione del copio anche nel conferimento perché la vita di raccolta di tutti anche se ha raccolto no a tutte le famiglie che aveva il copio anche se ha raccolto in maniera differenziale plastica tarta vetro umido differenziale ha messo tutti in giro e ha portato in discale 2020 e 2021 2021 tutti i cominciati tutti i cominciati che comunicavano questo ha prodotto obbligatoriamente un innalzamento della quantità dei rifiuti o per i di come differenziato e una diminuzione della raccolta differenziale è la colpa a chi gliela volete dare al sindaco a Gesù Cristo che ha fatto un uomo non è un po' l'ultimo nel 2020 abbiamo un uomo che ci sono un uomo per cento vi posso andare a tutte le nel 2020 abbiamo avuto il 51 per cento poi ha cominciato a scendere fino al 43 e 60 di abrita 2020 non c'è tutto qua aspetta l'osservatorio regionale io prendo il piccolo 2018 43 e 79 poi siamo saliti 2019 sceso 39 e 70 l'osservatorio mi si rivela 2020 51 e il picco è stato 2 2021 covid 46 e 60 noi siamo al 43 l'auto aggiornata al 30 aprile 2021 la cittadinanza l'amministrazione ha il dovere di lavorare pure parlare dicendo sanzione al mese non ci sta dicendo sanzione al giorno o c'è sanzione al mese non ci sta forse va forse stiamo affrontando una ordinanza per rimettere in sesso io voglio fare una domanda chiedo scusa certo certo noi sono solo alzato ma dico noi dobbiamo andare adesso oltre ma vi stiate rendendo conto penso di sì che il servizio non funziona in che senso la raccolta porta a porta e quindi queste percentuali fanno sì che esplode l'incongruenza e la gente e la gente giustamente come dice lei incattivita anche dal monumento di bollette gas subisce quest'altra mazzata quindi ci state pensando o avete fatto adesso un po' di accenno al discorso mancanza di controlli ma io dico chi valida le fatture chi valida le fatture dei lavori svolti mensilmente i vigili urbani allora c'è qualcuno che li valida perché l'ingegnere Barbaro non li valida sicuro gli uffici i vigili urbani vanno in giro a vedere se in effetti hanno prodotto quello chi li valida le fatture come fortunatamente abbiamo il tecnico qua ma il tecnico non valida di certo non li valida il sindaco ma che c'è il stecchiano o i consiglieri comunali ma chi li valida chi li valida allora scusate però per effetto del covid io si non scusate però stiamo parlando via della valitazione telefonda allora lui parte però già da un altro no io parto dal fatto che questa è una cosa del 2019 18 17 16 14 faccio una riflessione del tutto personale ci sono tante componenti non so se mi sono spiegato sì certo faccio una riflessione del tutto personale e di carattere anche politico sicuramente non è il caso di tornare alle discariche in tutta la città i vigili sicuramente dagli alla mano la raccolta è differenziata porta a porta è il mezzo più avanzato ma lo dicono anche i dettagli ma i risultati all'ucera non prendono e l'ucera è forse però molto più avanti di altre città noi prendiamo quello in casa è il migliore di questo ho già visto il meno per cento è il metodo più avanzato più avanzato però non funziona penso che ve ne siete accorti tutti ma tu parli dell'azionismo inteso proprio della tecnico della gente no della popolazione della tecnico che in effetti fa il lavoro ma chi valida le fatture prima di passare chi valida le fatture allora io ti stavo facendo una premessa il sindaco durante il comit ha fatto un'ordinanza di pietro al soluto di scendere con i bidoncini per la raccolta differenziale ed è andato tutto adesso stiamo preparando la nuova ordinanza che dovranno mettere di nuovo tutti i cittadini i bidoncini alcuni li mettono già adesso però non c'è il controllo con i microchip faremo quello faremo una propaganda a tappeto per dire ai cittadini di nuovo nonostante sul sito del comune c'è tutto tutti i prodotti come erano come erano la partita l'ingegner Borrelli l'ingegner Borrelli ah Pasquale Borrelli è diventato il nuovo validatore però se Pasquale Borrelli non riceve segnalazioni puntuali sull'omesso sorgimento del servizio che chiaramente queste sono cose che devono fare in giro i bani o ci deve essere uno che puntualmente va in giro e dice per esempio ma non avviene